E' stata definita la regione più bella del mondo da ben tre riviste internazionali. Senza petrolio, è come se finisse il vino a mio nonno. Noi senza petrolio, l'Italia è in crisi e la crisi è questo imbroglio. La situazione non va, non va, non va. Guarda è troppo poca libertà, non va, non va. Tutto è iniziato nel lontano 2008-2009. I cittadini pugliesi non sono stati informati adeguatamente. Il Senato conia questo reato e alla Camera, plus, scompare con un vuoto segreto. Questo è il momento della verità. Ma quali vantaggi comporta? La spesa non ne valeva l'impresa. Il mare, il cielo, la terra, di chi sono? Il 17 di aprile daremo uno schiaffo morale. La visione politica è chiara. Fonti fossili a go-go. Non serve a niente all'Italia.